Vi canterò Satanasta, che è una canzone un po' dark, quindi quelli un po' dark e tristi mi faranno un applauso. Grazie. Allora. Sono una ragazza dark, di inconsapevolezza, tengo a Babbo Natalia qua qua sotto, con le corne, nella mia stanza. Canto in sorpetta tipo Riavolillo, mi cresco le pecore, c'ha ragione, ci faccio le cupecchie, e aspetto con ansia che un altro dark mi bastoni serenamente per il resto della mia vita. Mi piace il tipo schiatto morto sotto postata massa, è un po' boh, non mi ricordo, mi mani ammorsi pipistrelli a tipo Mary Manson. Faccio i riti satanici, che mi mangio la pasta a fagioli dentro l'orecchia di porco. Alla tema! Grazie. Allora, vi volevo presentare il mio gruppo, ai flauti, del Muglio Bianco, scapellato, che lui dice che si chiama Spettinato, però non mi ricordo mai. Al basso, non mi ricordo, però è di Salerno, quindi dice Gould, cioè uno di Salerno che dice Gould. Con Simone Zò, poi ha le testiere, falloppio, che si intende di ovuli e così vai. Poi c'è Mezza che viene da Milano, Mezza il mio gobbo, Lone. E Valeria che si metteva vergogna all'arpa. Grazie a tutti e arrivederci. Ai cani alla tromba! Ok, grazie!